Faci Milan, forza, lotta, vincerai, non ti lasceremo mai, non ti lasceremo mai, di domenica allo stadio per vedere i nostri eroi, non vi lasceremo mai, non vi lasceremo mai. Sul giornale a Boninsegna che spiega anche, dà la sua opinione su questa cosa, il calcio è cambiato, oggi non ci sono più dei marcatori sull'uomo, ci sono molti giocatori che giocano, difensori ed esterni, che giocano a zona ma che non hanno più le capacità dei giocatori, perché non sono più abituati a immarcatura sull'uomo, ecco perché certi gol nascono in spazi, in voragini vere e proprie che si creano nelle difese o nei settori più importanti della fase difensiva. Parliamo di un giocatore Boninsegna, oggi il calcio è cambiato molto, non c'è più il libero, non c'è più il centro mediano che marca fisso Lukaku piuttosto che Pinco Palla o Ibrahimovic o chi per esso robe del genere. Oggi marcano la zona e certi giocatori, vedi Lukaku, lo stesso Ibrahimovic eccetera, usufruiscono di maggiore libertà e quindi concretizzano molto anche per questa lacuna che hanno in fase difensiva i difensori, abituati oggi a marcare la zona. Un altro aspetto che può essere oggetto di critica a proposito di Milan sono gli infortunati, infortunati per problemi muscolari. Quindi è vero che si gioca ogni quattro giorni perché la media da gennaio a oggi per quanto riguarda il Milan ha giocato ogni quattro giorni. Quindi anche questo ha contribuito a infortunare i giocatori. Però probabilmente nella preparazione c'è qualcosa che non ha funzionato perché poche altre società hanno avuto 17 infortuni per problemi muscolari.